Un prestigio sempre più sofisticato antiterrorismo per il Carnevale di Venezia, non solo in centro storico dove i barchi saranno dislocati nei punti d'accesso alla città ma anche in occasione degli eventi in terraferma. Il piano di sicurezza è pronto. Quest'anno cercheremo laddove possibile di portare i controlli a campione agli ingressi della città, perlomeno gli ingressi da Piazzale Roma, dalla stazione di Santa Lucia per poter dare immediatamente la sensazione a colui che vuole passare una giornata in allegria per il Carnevale di questa città con un minimo di tranquillità e di sicurezza. Un segnale direi che agisce molto sulla psicologia delle persone. Sulla piazza San Marco credo che abbiano funzionato bene a detta di tutti, dei cittadini ma anche vostri, dei media, i servizi dello scorso anno. Quindi insisteremo su quel piano che ha valore collaborazione di tutti. Le forze di Polizia Nazionale per quanto riguarda il servizio di sicurezza stretto, i controlli ai barchi e sul bacino e la Polizia Locale che ha gestito molto bene i flussi delle persone, incanalandole senza creare intoppi e quindi disagi. Attenzione anche a Marghera e a Mestre per i due carnevali della terraferma. Credo che l'esperienza mi abbia insegnato che il Carnevale veneziano, orgoglio di questa città, però è soprattutto un Carnevale di immagine della città, un bel biglietto da visita per i turisti e per il mondo intero. Il Carnevale dei cittadini, del popolo veneziano è quello di Mestre e di Marghera. Mestre in piazza Ferretto e Marghera in piazza del Mercato. Non posso pensare di non considerare questo perché soprattutto il Carnevale di Marghera, la sfilata dei carri, attira tantissime famiglie. È molto bello sotto il punto di vista del Carnevale classico italiano e quindi è doverosa attenzione perché attira tantissime persone e noi non è che ci occupiamo dei turisti. Non siamo la polizia del turismo, siamo la polizia di questa città e dobbiamo dare sicurezza innanzitutto ai nostri concittadini e poi a tutti i turisti. Sviluppi nelle prossime ore per l'aggressione dei tifosi del Parma, purato che non è stato uno scontro tra oltre di opposte fazioni. Stiamo verificando il tutto, approfondiremo e laddove ci saranno delle responsabilità credo che sotto il profilo dei provvedimenti di mia competenza sarò molto pesante. Poi laddove ci saranno degli aspetti penali, perché credo che emergeranno degli aspetti penali, basta pensare alle lesioni che hanno subito alcune persone e procederemo anche con l'autorità giudiziaria che peraltro è stata già informata nel tardo pomeriggio di domenica. Grazie. Grazie.